La scuola di Celle è stata in questo molto generosa, pensare che questo progetto poteva aiutare la pediatria di Savona e di Pietraligore naturalmente, sostenendo l'associazione Cresci, che è l'associazione che da molti anni sostiene la struttura complessa di pediatria dell'AS2. Basta andare su Youtube, doniamo cantando, fare un click e in questo modo con una serie di visualizzazioni si arriverà a raccogliere dei fondi che andranno all'associazione e di conseguenza consentiranno un aiuto alle nostre attività. Diciamo che l'idea di questo progetto è nata quando mi sono trovata su Whatsapp, un link che ho aperto e ho sentito la canzone Palle di Natale. Era chiaramente una canzone fatta nel reparto oncologico e infatti poi andando a cercare, a fare delle ricerche, ho scoperto che era stata fatta nel reparto oncologico dell'ospedale di Milano e praticamente ragazzi a lunga degenza che creavano canzoni che venivano poi visualizzate e i proventi andavano all'ospedale e ho pensato perché non si può fare una cosa simile per la scuola e ho aperto questo ponte fra la scuola di Celle e l'ospedale pediatrico di San Paolo di Savona. La regia è stata abbastanza complicata perché comunque lavorare con i bambini è sempre molto importante richiede un'attenzione notevole. Ricordo che le riprese e il montaggio sono state fatte da Giosuè Cavallaro e appunto il video lo potrete vedere da questa sera su Youtube. Ricordiamo che la canzone la potete trovare appunto su Youtube e niente, è uno storytelling, un racconto dove il tema principale appunto è l'amicizia.